Saronno Ancora il capitano bianco celeste prova a rendersi pericoloso da punizione esterno della rete L'occasionissima capita poco dopo la mezz'ora sulla testa di Sardo Ma De Pace è monumentale nel mantenere in vita il vittuone che non capitola proprio grazie al suo portiere Assoluto protagonista del match Il Saronno vorrebbe il gol già nel primo tempo Azione manovrata da parte dell'FBC che cerca la miglior conclusione possibile Tiro di di noto De Pace para Mentre sull'ultima azione dei primi 45 minuti Serpentina di Pontigia che salta praticamente tutti gli avversari Ma De Pace dice no 0-0 nel primo tempo anche grazie alle grandi parate del portiere del vittuone Con le immagini nella ripresa con lo stesso copione del film Ma cambia il finale perché dopo l'ennesima serpentina Pontigia sfodera il destro che non dà scampo A De Pace Minuto 4 della ripresa è Saronno che si porta in vantaggio Sbloccando così una partita che rischiava di diventare complicata e nervosa Ancora una volta è il suo numero 10 a segnare Ricevendo l'osanna dei compagni e del pubblico di casa 1-0 è partita che non cambia Comunque il Saronno vuole chiuderla Meclamoroso il doppio salvataggio Prima su Sassella Bravo un difensore sulla linea Poi su Sala con un altro miracolo di De Pace Dal corner seguente prova a svettare Sassella Ma ancora una volta De Pace è super Il Saronno vuole il secondo gol Ma il portiere ospite non è d'accordo Qui nega ancora una volta la rete a Sala Che dovrà di fatto arrendersi a fine gara Si mette in proprio Allora Pontigia che va via ancora una volta sulla destra Il numero 10 stavolta rientra sul mancino E prova il tiro a colpo sicuro Questa volta è una deviazione a negare il gol Che però alla lunga vede premiato il suo sforzo Il numero 10 del Saronno Pontigia riceve al limite dell'area Fa partire un sinistro chirurgico Che non dà scampo Stavolta il portiere avversario 2-0 al minuto 31 della ripresa E rete numero 9 per il fantasista dell'FBC Ormai vicino alla doppia cifra In termini realizzativi in campionato partita Di fatto chiusa il Saronno a tempo ancora Per divertirsi nell'ultimo quarto d'ora del match Anche se il risultato non cambierà più Tiro di Noto fuori di un nulla Poi ancora un paio di parate di De Pace Che di fatto nega la tripletta a Pontigia Mentre nel finale Baldan colpisce anche la traversa Finisce così 2-0 la partita tra Saronno e Accademia Vittuone I biancocelesti tornano a sorridere Ora vogliono mantenersi tra le prime della classe Anche dopo la trasferta di Milano Sul campo della Calvairate Saronno e Accademia Vittuone Saronno e Accademia Vittuone